ciao nel video precedente abbiamo creato le tabelle i relativi campi per la nostra app medici pazienti in questo video andremo ad importare i dati per alimentare le tabelle i dati sono contenuti in questo file excel e suddivisi per fogli qui abbiamo il foglio clienti visite servizi e questo è la struttura dei diversi campi che abbiamo creato nella lezione precedente ora prima di iniziare mi sono dimenticato due piccole cosette nella lezione precedente per cui andiamo in file maker apriamo la nostra app fm app medici doppio clic e qui vado in file gestisci database da qui in poi userò spesso la scorciatoia maiuscolo comando di quindi proviamo maiuscolo comando di questo apre la finestra gestisce database e la prima cosa che farò è di andare a modificare il nome di alcuni campi capirai perché è comodo fare in modo che i campi che vengono definiti abbiano lo stesso nome dei campi che sono definiti nel file excel quindi mi sono accorto qui nella tabella visite che questi campi non corrispondono al campo indicato dentro la tabella in excel quindi li vado a modificare data visita qui devo inserire un underscore e modifica ora visita devo inserire qui un underscore e modifica la seconda cosa che mi sono dimenticato di fare è che abbiamo utilizzato la convenzione di far precedere la chiave primaria da un underscore ma la chiave esterna va preceduta da due underscore quindi qui aggiungo uno e faccio modifica vado nella tabella pazienti e qui non abbiamo chiave esterna della tabella pazienti in servizi abbiamo qui una chiave esterna e qui aggiungo un altro underscore pare che facendo in questo modo è molto più facile individuare le chiavi primarie e esterne quindi qui modifica un'altra cosa che mi sono dimenticato nella lezione precedente è che in visite quando abbiamo creato il campo data visita dovevo andare in opzioni doppio clic e visto che quando registreremo una visita imposteremo solitamente la data del giorno di registrazione possiamo facilitare l'utente nell'inserimento dei dati e fare che il campo venga automaticamente popolato con la data del giorno e per questo motivo andiamo a selezionare ad attivare questa casella di creazione data quindi in fase di creazione andremo ad assegnare la data di giorno al campo data visita qui faccio ok e qui faccio ok ora siamo pronti per importare i nostri dati all'interno dell'app medici pazienti qui la tabella attiva è pazienti perché dobbiamo importare prima i dati di pazienti vado nel mio file excel qui ho indicato clienti ma in realtà dovrebbe essere pazienti nel file excel ritorno quindi all'app file maker con la tabella pazienti il formato attivato qui c'è un record che è stato inserito quando abbiamo creato la nostra tabella questo record è vuoto lo andiamo prima ad eliminare perché tutti i dati li importeremo dal file excel con il campo selezionato andiamo su elimina record e facciamo elimina ora possiamo passare all'importazione quindi vado in file importa record da file ho saltato un piccolo passaggio abbia un po di pazienza qui faccio annulla qui ritorno nel mio file excel qui è pazienti ma non ho salvato quindi salvo ritorno all'app di file maker zero tabelle e ora ripartiamo sul serio file importa record file e qui ho il mio file excel quindi doppio clic per aprirlo e seleziono il foglio pazienti faccio continua si apre la finestrella di specifica logni di importazione qui ci sono i campi abbiamo l'origine che il nostro file excel abbiamo la destinazione dove verranno importati i dati che è la tabella corrente pazienti qui bisogna fare attenzione che la tabella attiva deve essere sempre quella che corrisponde a quella in cui vogliamo importare i dati qui abbiamo pazienti attivi e tabella corrente e pazienti abbiamo quindi campi di origine campi di destinazione come puoi vedere non sono corrispondenti e per metterli in corrispondenza puoi semplicemente trascinare per cui qui il nome puoi selezionare e trascinare verso l'alto per mettere nome in corrispondenza di nome ma c'è un'impostazione che è molto più comoda se vai in organizza per impostazioni personalizzata e qui fai di nomi corrispondenti non è selezionato perché prima dobbiamo andare ad attivare non importare il primo record contiene nomi di campo quindi clicchiamo perché il primo record è in testazione a questo punto si attiva organizza per e possiamo scegliere di nomi corrispondenti e ora capisci il motivo per cui abbiamo fatto corrispondere i campi della tabella di del file di origine ai campi delle tabelle che abbiamo creato in file maker ora tutti i campi sono corrispondenti qui c'è la mappatura del campo e questo vuol dire che verrà importato mentre questo vuol dire che non verrà importato qui c'è stato un piccolo errore perché noi abbiamo nella tabella di origine email che è stata messa in corrispondenza di foto e se scorriamo fin giù non troviamo niente cerchiamo dove si che si trova la mail qua abbiamo email e dall'altra parte pare che ci siamo dimenticati di creare l'email quando abbiamo definito i nostri campi nessun problema andiamo in gestisci database in corrispondenza di pazienti non abbiamo email la creiamo subito quindi email è un testo crea faccio ok ritorniamo in corrispondenza della finestra di importazione dei dati e qui abbiamo email foto per un motivo che un ignoriamo viene posizionato qui in basso ma nessun problema tutti gli altri campi non verranno importati questo segno vuol dire che non verrà importato e qua abbiamo tutto corrispondente la seconda cosa che dobbiamo fare è di andare a verificare che i dati che importiamo sono effettivamente corrispondenti ai campi che abbiamo definito una tabella di destinazione quindi posso vedere che tutto quanto chiave primaria tutto quanto è corrispondente a questo punto possiamo andare a fare importa importa sia per la finestra di opzioni di importazione e qui dobbiamo essere attenti a non selezionare esegui opzioni proposte durante l'importazione questo perché ad ogni record va sempre associata automaticamente una chiave primaria in fase di registrazione o importazione ma siccome la nostra tabella i dati che importiamo hanno già le chiave primarie non andiamo a crearli nuovo quindi questo non lo selezioniamo andiamo quindi in importa vediamo che sono stati importati 25 record e zero errori faccio ok e se vado qui a navigare posso vedere che i dati sono stati effettivamente importati riproduciamo lo stesso processo per le altre tabelle che sono visite e servizi questo sarà molto più veloce quindi andiamo file importa record file doppio clic su file per aprirlo visite o ho fatto un errore a nulla qua dovevo prima selezionare visite ok facendo in questo modo i dati che importeremo alimenteranno questa tabella quindi a questo punto posso andare file importa record file doppio clic visite continua qui mi assicuro che la data la tabella di destinazione è visite qui scelgo di non importare il primo record e qui vado a fare di nomi corrispondenti possiamo controllare per vedere che tutto quanto è equivalente mi sembra tutto ok qua possiamo controllare anche a livello di nomi di corrispondenze sembra tutto ok e andiamo a fare importa non scegliamo questa opzione e facciamo importa 68 record importati zero errori facciamo ok passiamo al formato alla tabella servizi perché dobbiamo importare i dati per questo formato questa tabella andiamo quindi file importa file doppio clic sul file a questo punto selezioniamo servizi continua la nostra tabella corrente e servizi siamo a posto selezioniamo non importare il primo record andiamo in organizza per di nomi corrispondenti e sembra che qua siamo a postissimo andiamo a vedere i dati che importeremo e facciamo importa non selezioniamo questo e facciamo importa 123 record importati ok abbiamo quindi importato tutti i nostri dati questo file è disponibile nella descrizione di questo video così lo potrai scaricare e riprodurre esattamente quello che mi hai visto fare nella prossima lezione definiremo le relazioni tra le diverse tabelle in modo da poter vedere le informazioni correlate a presto ciao